Buonasera, sono il pubblico ministero. Buonasera. Senta, vuole riferire al tribunale lei chi è, se ha fatto parte di associazioni mafiose, se sì con che ruolo, da quando collabora con la giustizia? Allora, io ho fatto parte dell'associazione dei barcellonesi, dagli anni 90 fino al 2011, quando ho collaborato, il 4 aprile 2011. Era responsabile dei due paesi Falcone e Moivere e basta. Che reati ha commesso lei come partecipe di questa associazione mafiosa con il ruolo che ha indicato? Sono stato governato per associazione, per nuovi uccidi e per fare escursioni. Le è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione speciale per i collaboratori? Sì Senta, le risultano esistenti e operanti, le risultavano, nell'arco di tempo in cui lei ha fatto parte di questa associazione mafiosa dei barcellonesi, le risultavano operanti, gruppi mafiosi a Tortorici o nelle zone limitrofe? Sì, i Tortorici c'erano i barcellonesi e il contempo stava, dove c'era? Lei ha avuto rapporti con componenti di queste due famiglie mafiose che lei ha indicato? Con i batanesi sì E con chi dei batanesi? Vincenzo Cavalli e Darmelo Barba Giovanni, Pippo Scaramboicchio e altri, non mi ricordo, altri ho conosciuto in carcere pure. Si ricorda il soprannome di Barba Giovanni? Se lo aveva? Muzzuni Muzzuni L'ha conosciuto fuori quando, in che circostanza e chi è questo soggetto, Bastiano Biondino? E' uno che ha un livello buono nell'associazione dei baranesi, comunque l'ho conosciuto la prima volta, me l'ha presentato Calcò e poi in una mangiata in un vivale a Terminigliatore nel 94-95, abbiamo fatto una cena, un pranzo assieme e c'era lui e Pippo Scaramboicchio, mi pare. Che allora si discusse per l'amicizia di Bisognano, comunque che poi non si è fatto. Senta, chi è questo Calcò a cui lei ha fatto riferimento e che l'ha presentato, se ho capito bene, Bastiano Biondino? Salvatore Calcò è uno originario di Tortolici, però abitava a Falcò e faceva parte della nostra associazione, che adesso è stato condannato per il caso. E in che circostanze e perché le presentò Bastiano Biondino, Calcò la Bruzzo Salvatore? Ma ci incontravano spesso per delle ditte che da noi andavano a lavorare, da loro, ci scambiavano il favore delle estorsioni praticamente, no? E loro collaboravano con noi da... E Calcò la Bruzzo Salvatore in questo contesto che ruolo aveva? Calcò la Bruzzo Salvatore, diciamo che aveva un collegamento diretto con lui, con loro. E in quanto aveva gli animali come loro, si incontravano spesso e poi, diciamo, mi portavano l'ambasciata per poter il lavoro che c'era. Qualche ditta della nostra presa andava a lavorare da loro. O qualcuna che... O poi c'erano tanti discorsi per quanto riguardava le truffalline per... I tesserini, ma per i tesserini? Ci portavano dei tesserini? Ci scambiavano dei tesserini? Lei intende le truffe per i falsi braccianti agricoli quando fa riferimento ai tesserini? Sì. Va bene, ora su queste vicende, diciamo, truffalline ci arriviamo. Vorrei che intanto lei si soffermasse un attimo sulle questioni estorsive. Lei ha fatto riferimento, se ho compreso bene, ai rapporti estorsivi che legavano... O comunque a vicende di estorsioni che legavano batanesi e barcellonesi. Come funzionavano le estorsioni in termini generali? E poi se puoi riferire di qualche vicenda specifica. Praticamente, non lo so, negli anni, non mi ricordo, nel 96-97, ne ho chiusa una. Pupo Scalabocchio me l'ho rappresentato, un certo Bartolo, che non so se era l'irrata di Caprileone. Comunque che riguardava la ditta, oggi Ventura e sebbia, all'epoca era agricolumato. Oggi Ventura, ha detto lei, Ventura. Oggi Ventura e sebbiava, una volta era Rimmelmark o Euroverde, aveva tre diverse ditte, no? Sempre la stessa società. Sì, che faceva capo a chi? A quale impregnitore? A persone fisiche? Ventura Sebastiano, Ventura Angelo e Ventura Giuseppe, erano dei fratelli. E questi dovevano fare un lavoro, non mi ricordo se era Rocca di Caprileone, comunque. E ho fatto parlare a questo Bartolo con i Ventura e si sono accordati che gli faceva fare lo scavo e nello scavo faceva una sovraffatturazione e gli prendeva i soldi dell'istruzione pure, no? Così loro non uscivano niente nero, ma pagavano solo la fattura. E questo poi è avvenuto. E questo Bartolo? Con la sussione poi? Questo Bartolo chi era? Cognome se lo ricorda? Non me lo ricordo. E di dove era originario se lo ricordo? Se lo ricorda? Non era di Tortoli vicino, comunque mi ricordo se era di Rocca di Caprileone o la vicina. Comunque si era arrestato questo soggetto poi, ho visto la volta che l'ho visto sul giornale, se non sbaglio. Per cosa fu arrestato e quando? No, già lo lavoravo, ho visto una foto sul giornale e mi pare che l'ho riconosciuto se era lui. E' stato arrestato per l'associazione, per qualcosa del genere. Eh, e lei ha fatto riferimento per questa vicenda riguardante alle estorsioni a questi imprenditori di Ventura, anche a Pippo Scarabocchio? Sì, perché è stato Pippo Scarabocchio a portarmi, stupartolo da me. Me l'ha portato in officina a questo. Perché sapevano che io ero molto vicino alle Ventura. Dice, c'è questo lavoro, lo dobbiamo organizzare così, gli dà l'apparto degli scavi. E in mezzo ci mettiamo all'estorsione. E loro in Ventura sono stati d'accordo e poi si è confusa così. E perché si interessò questo Pippo Scarabocchio se i lavori andavano, se ho capito bene, i lavori da eseguire erano a Rocca di Caprileone? Ma perché c'era un collegamento tra tutti, no? E l'unico che potevo avvicinare a Ventura ero io, che erano vicini a me, che pagavano l'estorsione a me. E quindi loro si sono rivolte a me. Perché erano il mio paese più lato, no? Ho capito. Mentre Rocca di Caprileone ricadeva come territorio, diciamo, nella competenza o sotto l'influenza di chi? No, quelle zone non lo so come sono stati divisi. Perché c'è stata, negli anni 90 si è fatta la divisione. Però in buon tempo i paranesi e il Rambulla, il Ministretta. Però non mi chiede ai territori che non lo so. Va bene. E questa fu una vicenda in cui lei ebbe rapporti tra gli altri con Pippo Scarabocchio. Poi ce ne fu un'altra, sempre con Pippo Scarabocchio, che io lo feci parlare, che stavano facendo un palazzetto dello sport al dottor Ricci. E parlai con Pippo Scarabocchio, mi venne a cercare e gli fissero un appuntamento con Leggio Salvatore. per aggiustare questa istruzione, che poi non si è fatta neve la propria istruzione perché il lavoro era piccolo, ma con delle assunzioni di associati nella ditta, che doveva lavorare a Tordorici. Che poi, di conseguenza, il lavoro effettivamente era il nome di Alessandro Concomerati, di Oliveri. Non era di Leggio, il Leggio era il cognato. Cioè la ditta era di Oliveri, non ho capito. Sì, la ditta era di Oliveri, era Alessandro Concomerati, o in società con Leggio Salvatore, o qualcosa del genere, avevamo una lavora assieme, però erano parenti, tutto e tutto. O come facevano impianti elettri, o come facevano i bitumi, perché facevano lavori diversi, no? Quindi non lo so, mi pare che era intestato il lavoro, se l'aveva giudicato Alessandro Concomerati. Eh, e come si svolse questa estorsione? Questa poi si svolse con un paio di assunzioni, 5 bravi, una cosa del genere, perché l'aveva giudicato alla volta. Quando è accaduto questo fatto? Eh, non mi ricordo l'anno preciso, ma comunque, prima del 2000 sicuro. E lei ebbe rapporti con chi dei batanesi per questa vicenda? Sempre con Pippo Scalabocchio. Però si mise da conto lui stesso là davanti a me con Leggio Salvatore. Con chi? Con Leggio Salvatore, uno dei vingolari della pittola. Sì. Altre vicende estorsive, mi ricorda? Eh sì, uno hanno chiuso con Vicenzo Salvatore il 2004-2005, prima del mio arresto, mi pare. Con Michele Pino, il sindaco di Oliveri. Può ripetere il cognome? Non si è sentito. Può ripetere il cognome? Io non l'ho sentito, chiedo scusa. Il cognome di questo soggetto. Michele Pino. Pino. Michele Pino, sì, che stavo lavorando con i cami nella vostra Messina-Patermo. Erano nella zona di finale, non lo so, comunque, in quella zona là. Prego, può descrivere questa vicenda, come si svolse, lei con chi si incontrò, quando e che cosa fu deciso? Mi sono tra e mi venne a cercare Stefano Rottino, Vincenzo Palati, è un ragazzo di San San Vodoro in Italia che facevano un insta a Vincenzo Palati. e mi dissero che volevano sistemare questa estorsione con Michele Pino, che stava lavorando con i camion, aveva 4-5 camion e stava lavorando nella vostra strada in quel tratto là. E io gli dissi, va bene, ci sei ora, ti fissi un appuntamento e ti faccio parlare direttamente con lui. e poi lui è ritornato, una volta arrivato a Vincenzo Palati, senza Stefano Rottino, comunque, è tornato, con quella ragazza di San San Vodoro in Italia. E diciamo che si sono messi d'accordo a 10.000 euro per questa estorsione, che poi a quanto pare, non lo so, perché poi a me nel 2005 mi hanno arrestato, il 3 maggio del 2005 mi hanno arrestato, comunque io, di questa vicenda, 5.000 euro glielo ho consegnato io, a Carmelo Barbagiovanni. 3 più 2. 3 più 2? Sì. Quindi la consegna dei soldi, se ho compreso bene da parte sua, non avvenne direttamente a mani di Vincenzo Palati, ma di Carmelo Barbagiovanni? Sì, da un mio papà Giovanni, un certo Giuseppe, mi pare di sopra noi, che si chiama Cosina, aveva la 166, comunque veniva spesso nell'altro ufficio e mi portava pure la macchina. Petrino. Petrina, Petrino, una cosa del genere. Senta, rispetto al momento in cui lei ebbe questi incontri con Vincenzo Galati, quanto tempo dopo lei consegnò questi soldi a Carmelo Barbagiovanni? Più o meno? 2-3 mesi. La prima traccia, perché poi ho saputo dopo, però, che questi soldi non erano dei baganesi, erano dei Buon Tempo Scavo, però, a quanto pare, loro gli facevano, gli evitavano il pizzo, non gli evitavano, perché poi sono stato contrattato in Buon Tempo Scavo, nel 2010, e mi hanno detto che hanno preso solo 10 o 3 mila euro, il 2 mila euro non l'avevano preso. Ho capito, che in realtà, che in realtà non gliel'avevo dato, gli avevo dato 2 mila euro di gomme, però gli avevo fatto pure la fattura, e poi i 3 mila euro non gliel'ho consegnato direttamente a Barbagiovanni, perché avevo capito, quando ho capito che questi soldi erano suoi, e disse questi non glieli danno. Ma no, allora, i 3 mila euro gliel'ho passato a mano a Cacco, e gliel'ho fatti dare da lui. Quando Barbagiovanni è venuto, non gliel'ho dato, gli ho detto, poi ti rimando con Cacco, e gli ho fatto fare il giro per lasciare la traccia, perché avevo capito che c'erano dei discorsi tra i baganesi e i portelli. Ho capito, quindi per questa vicenda estorsiva lei consegnò soldi da prima a Carmelo Barbagiovanni e poi a Calcolabruzzo Salvatore, perché li facessero arrivare a chi, signor Gullo? Ma lui li portò direttamente a Cacco, a Carmelo Barbagiovanni, che poi dovevano andare in buon tempo scavo, perché dice che la zona, il territorio dove stavano, in pratica erano i suoi. Ho capito, quindi per quello che ha compreso lei in questo contesto, i baganesi ritiravano soldi che in qualche modo erano di interesse anche dei buon tempo scavo. Presidente, 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 così è suggestiva la domanda, perché il test ha parlato di Barbagiovanni che è intervenuto, bisogna capire a che titolo è intervenuto Barbagiovanni in questa vicenda. Signor Gullo, noi siamo un po' confusi, lei ha parlato di 5.000 euro e di averli dati, nella prima parte della dichiarazione, lei ha detto così, direttamente a Barbagiovanni Carmelo. A Barbagiovanni Carmelo gli ha dato una fattura per 2.000 euro. Poi nella seconda parte della dichiarazione, io ho capito che lei ha fatturato 2.000 euro di gomme. No, la prima era 2.000 euro di gomme. E allora ci spieghi meglio. Io gli devo dare 2.000 euro, no? A chi? A Barbagiovanni. Sì. A Barbagiovanni dice, sa, ti porto le macchine di tutti gli amici, gli mettiamo le gomme, e così dice, 2.000 euro li sistemiamo così, ancora io li dovevo prendere. Anzi tu. E io ho detto va bene, però alla fine poi gli ho fatto pure una fattura unica, no? Per avere una prova che gli avevo dato sti soldi, no? Perché certe volte succedeva che si farivano soldi. La seconda tranche, quando lui è venuto, gli ho detto, ancora me li devi dare, invece ce l'avevo in tasca. Te li mando un cappone. Perché lei aveva capito che fra Badanesi e Bontemposcavo c'era qualcosa che non funzionava. Sì, c'erano stati dei problemi ultimamente. Si rubavano una cosa l'altra. Ho capito. Prego, prego, pubblico mister. Sì. Prego, stava aggiungendo qualche altra cosa, signor Gullo, quindi come finì questa vicenda? È finito che io gli dessi i soldi a Cacco, a Cacco, gli fece a Barbagiovanni. E poi nel 2010, vediamo, sarà un po' il tempo, dopo il cinghia, ma dice, ma alla fine tu quanto gli hai dato? Io gli ho detto cinque. Dice, no, noi abbiamo preso solo tre. E poi questo discorso me l'aveva pure chiesto, me l'aveva mandato una marcella per me l'amico, quando era ancora fuori. Perché io sono uscito poi nel 2007 e me l'ho arrestato nel 2009. E me l'aveva chiesto per me l'amico, ma questi, dice, ancora devono prendere i soldi, io quelli che mi hanno dato, gli hanno dato. Chi non me l'ha detto dire, non mi ricordo con chi, forse con fratello Francesco, non mi ricordo. E basta. Poi me l'hanno chiesto in carcere nel 2010, in buon tempo. Dice, ma tu quanto gli hai dato? Dice, io gli ho dato cinque mila, che ero vicino, noi ne abbiamo preso solo tre. Dice, io gli ero dato. Senta, Rosario Bontempo e Giglia Salvatore le dissero questa cosa dove? In carcere? Sì, in carcere a Messina. In carcere a Messina. Ma chi sono Rosario Bontempo? Intanto le chiedo se è Bontempo, se c'è anche un altro cognome, se ha un doppio cognome. E poi chi è Giglia Salvatore? Chi sono? Rosario Bontempo Scala è uno della famiglia Bontempo. Il fratello Carmelo è uno della famiglia Bontempo. Bontempo Gio è uno della famiglia Bontempo. Poi c'erano i fratelli Rocchetta, Pippo Sinagra, Affio Gammarelli. Questi erano tutti Bontempo. Bontempo o Bontempo Scavo? Bontempo Scavo, sì. Ah, Sebastiano Bontempo Scavo pure, che è il padre. Senta ma, i contatti con i batanesi venivano tenuti nelle persone di chi? Cioè, chi è che teneva per conto dei batanesi i contatti con i barcellonesi? I contatti ce l'avevano proprio con tutti, con noi. Con me, per esempio, quando cercavano qualcosa sul mio territorio, a volte, ho stato un po' che si chiamava Allagip, sulla forzata Messina-Vaterno, e mi facevano andare con la cabina, io sarevo sulla forzata a piedi, che c'era il pass, e mi incontravo con lui. E in qualche volta mi sono incontrato pure con Bastiano Biondino. Carmelo Papa Giovanni pure, veniva direttamente dall'officina. Poi contattavano qualcosa, o se avevano bisogno qualcosa, poi per i lavori che facevano nella forzata Messina-Vaterno, si dedicava, se li ha procurati tutti i bisognati, perché lui anche, con i suoi mezzi, lavora qua, su quel posto, su tutto il tratto ha lavorato, camminando e camminando, perché l'avostata è stata fatta a tratti. E sul tratto finale, volle, in quella zona là, li ha gestiti tutti i bisognati. Tranne quando c'era qualcuno che era dei miei paesi, praticamente, lo contattavano a me, perché io con i bisognati non andavo d'accordo, quindi se veniva bisogno, io non parlavo con nessuno. Mentre per quanto riguarda i rapporti con il Bontempo Scavo, non con i badanesi, con il Bontempo Scavo, chi è che teneva i contatti, soprattutto per conto dei barcellonesi? Ma il Bontempo Scavo... Presidente, c'è opposizione, perché all'inizio della dichiarazione il test ha riferito di avere conoscenza dei rapporti comunque con altri e non con il Bontempo Scavo, quindi così è successiva. Comunque con? Non ho sentito mi scusa. Con altri, non con il Bontempo Scavo. Non con il Bontempo Scavo. Comunque è suggestiva in questi termini. La domanda fatta in altri termini, ha conosciuto qualcuno dei Bontempo Scavo? Sì, ma comunque lo dichiaravo pure nei pari precedenti. Il Bontempo Scavo, io fuori ne conoscevo poco. Conoscevo i Mignacca, conoscevo tante persone, no? Che prima erano legate al Bontempo Scavo. Però nel 2005, quando c'è stata la divisione dei gruppi, diciamo già nel 2003-2004, che noi abbiamo, ci siamo divisi praticamente. Noi barcellonesi? Sì, ci siamo divisi in tre gruppi, no? Il gruppo dei Mazzarotti, il gruppo dei barcellonesi giovani e il gruppo dei 20. Praticamente i soldi si dividevano in tre, no? Che invece prima andavano tutti alla famiglia unica. Allora, da l'ora in poi, i Bontempo Scavo si cominciarono ad avvicinare con noi, no? Più che altro, prima prese contatto, mi pare, Carmelo Rami o Dindaro Calabresco. Dopo l'arresto di Bisognano, dopo il 2003-2001. Perché fino al 2003 c'era solo il contatto con i barcellonesi. Quando a posto di Carmelo Bisognano prese il posto a Mazzarato, Tindaro Calabresco. Si cominciarono a prendere contatti pure con i Bontempo Scavo. E quindi si evitava di fare il doppio gioco. Si concludeva, alcune situazioni si chiudevano direttamente con i Bontempo Scavo. Che io però non ho fatto, perché poi io nel 2005 sono stato a pescavo, mi sono liberato nel 2008, nel 2009 sono stato a pescavo di nuovo. Però non ho la conoscenza di tutte queste cose. Che Tindaro Calabresco aveva fatto, poi nell'aprile, nel febbraio del 2008, si sapeva che c'era in corso l'operazione vivare. E Tindaro Calabresco sapeva che veniva arrestato. Abbiamo fatto una riunione e me l'hanno lasciato. L'incarico di prendermi io, Mazzarato e Dandrea. Perché stava uscendo, Carmelo Bisognaro, e lui dice, lo dobbiamo tenere fuori a Bisognaro. E perché bisognava tenerlo fuori? Perché bisognava tenerlo fuori? E perché lui, per quanto riguarda gli appalti, le cose, scome aveva pure i mezzi, subito si accaparrava tutto. Perché finché c'è stato bisogno, i ragazzi a Mazzara erano tutti senza un euro, praticamente. Perché si mangiava tutto lui. Non gli dava niente a nessuno. Invece dopo, quando ha ripreso, ha comandato Tindaro Calabresco, ha cominciato a accontentare tutti. E quindi loro stavano meglio con Tindaro Calabresco. E nessuno lo voleva più l'altro. Siccome io non l'avevo sempre contestata a Bisognaro, loro hanno scelto me, mi dice, ti prendi tutto tu, così è sicuro che lui qua non ci mette più il piede. Se vuole lavorare, dice, lo facciamo lavorare, ma prima ci deve chiedere a noi. Va bene, io che ho detto sì. Poi è rimasto fuori Artino. E io gli ho lasciato tutto, diciamo a Mazzara gli ero lasciato a Artino, anche perché era del posto, sapeva tutti. Senta, oltre ai soggetti che lei ha indicato adesso, dell'Associazione Mafiosa dei Barcellonesi. Chi altri era a conoscenza di questo equilibrio di rapporti tra voi barcellonesi, i batanesi e i bontemposcavo? Tutti. Tutti, lei intende anche Carmelo D'Amico? Carmelo D'Amico era consapevole e condivideva questo assetto di rapporti. Sì, lei ha fatto riferimento anche a un certo arco temporale in cui si sarebbe stabilito questo assetto di rapporti tra i barcellonesi da un lato e dall'altro i batanesi e il bontemposcavo. Ma c'era stato un incontro con qualcuno in particolare? Com'è che era stata stabilita questa cosa? Cioè, se ho capito bene che i soldi dovevano arrivare sia ai batanesi che ai bontemposcavo. Sì, la divisione è stata fatta, ha partecipato con l'Otti negli anni 90 e hanno fatto la divisione dei territori così, diciamo dopo guerra, dopo il 94, hanno diviso questi territori e hanno stabilito qua, ci sono i bontemposcavo, ci sono i baranessi, anche con la collaborazione di Rampullo, per avere la pace per arrivare. E da lì in poi è stato sempre così. Senta, lei ha conosciuto o comunque ha sentito parlare di un tale Lopiccolo? Sì, Lopiccolo è stato Lopiccolo Maravilloso, Lopiccolo Sampadone. Lei chi conosce o di chi ha sentito parlare? Non so, Lopiccolo e Lopiccolo sono padre e figlio, il figlio era l'abitante da noi, a Portorosa. Lopiccolo chi? Lopiccolo Sampadone, no Lopiccolo Sandro, Sandro Lopiccolo. Era l'abitante? Sì, era l'avigente, prima di essere arrestato era l'avigente, erano in Porto Rosa, però a me me l'hanno detto quando sono uscito perché io non c'era in quel periodo. Sì, volevo comprendere una cosa, questi rapporti che i barcellonesi hanno avuto con lo piccolo hanno avuto qualcosa a che fare con questo equilibrio di rapporti tra barcellonesi, badanesi e bontemposcavo o no? O è un dato temporale? Praticamente il successo è quello che so io, perché io ero dentro quando è successo questo, e praticamente lo piccolo era diventato il capo di Cosa Nostra, il capo di Cosa Nostra e all'inizio erano tutti l'accordo di quello che me l'hanno raccontato. Dopo qualche periodo, fra i bontemposcavo che si erano avvicinati a noi, fra i lo piccolo che avevano, c'era una vecchia promessa di prendersi il calme cappello di Cavagna e far entrare in Cosa Nostra, qualcosa è andato storto, qualcuno si è lamentato. Allora, che con quanto ho saputo io, tutte queste cose sono partite dai carceri, dice no, in cappello no, non so se in buon tempo hanno influito pure, comunque si erano avvicinati pure a noi. E allora, sta cosa si sono lamentati e hanno scaricato la colpa, dovevano scaricare una colpa su qualcuno, e l'hanno scaricato su Angelo Santa Paola a Catania. Dice no, è stato tutta l'idea sua, è stato ucciso. E poi secondo me è stato ucciso pure Artino, per lo stesso motivo, io non conosco le indagini perché non ho avuto nessuna ordinanza di cosa, dei processi che ho fatto, quindi non so perché i killer di Artino sono stati arrestati, però non so perché uno è collaboratore, però non so che motivazione ha dato per l'amici di Artino, perché secondo me Artino nel 2006 arrestano lo piccolo, il padre e il figlio. E quindi noi eravamo divisi tra i giovani, i tre gruppi, Mazzarà e i due giovani vecchi e nuori. Che succede? Succede che nei primi mesi, il 2008, vengono a Mazzarà i santa pauliani, arriva uno, non mi ricordo con chi ha parlato, se ha parlato con Cappò o con Artino, che volevano parlare con un esponente del canale del barcelonese, però dei giovani, perché i contatti con i vecchi ce l'avevano, quindi praticamente volevano parlare con qualcuno di noi. Allora Carmelo D'Amico dice, mi manda a dire di andare io e Cappò, viene Cappò e dice dobbiamo andare a Famoscuro, c'è questo incontro che ci vogliono parlare. Io ho fatto andare a Artino, perché ancora ero uscito da poco, se no mi metto a girare qualcuno, comunque non ci sono andato, è andato a Artino. Artino è arrivato là e questi qua gli dicono, si ritorna come prima, l'errore che si è fatto, lo vincolo, è praticamente, si ritorna a MD. E questo racconto che ha fatto lei, è questa premessa, cosa ha a che fare con i rapporti con il Bontempo Scavo e con i Badanesi? C'entrava qualcosa? Perché i Badanesi, il Bontempo Scavo si avvicinavano a noi, automaticamente avevano l'appoggio di Cosa Nostra, pure loro, no? Ho capito. E questa cosa doveva andare bene anche ai Badanesi? Che non è andata bene, perché si sono lamentati. Ho capito. Ma dopo queste lamentele, dopo questi incontri, dopo l'omicidio a cui ha fatto riferimento, poi, diciamo, i rapporti pacifici si sono mantenuti? Sì, grossomodi, i rapporti pacifici c'erano, però c'era sempre, per esempio io, non li ho incontrati più, va bene, che diciamo che eri in galera. Li ho incontrati a Carmelo Quattagione, li ho incontrati in carcere, a Giuseppe Pura, a Berlina. Poi ho conosciuto a Belluccio, che era lì per Mare Mosso, un nuovo acqua, però l'ho visto, perché erano al piano di sotto, l'ho visto una volta mentre andavo a scuola. Poi non mi ricordo che c'era. E poi, quando, io sono arrivato a gennaio 2009, subito dopo, è arrivato il bisognano che l'hanno arrestato, perché l'hanno scacciata, l'hanno arrestato per... però, un'estorsione, e subito i padanesi hanno chiamato a Bisognano, a Tappo Sportivo, per un incontro che avevano a averle lamentere, riguardo a... a... diciamo a... a stuporato di Tindano Caprese, perché Tindano Caprese nel frattempo a aprile 2008 era stato arrestato per vivare. Proviamo a rendere un po' più organico questo racconto. Sì, signor Gullo, la ripeto un attimo questo passaggio. L'assetto dei rapporti lei l'ha già riferito, adesso riferisca che cosa accade quando lei arriva in carcere. Ha anche riferito sul fatto che, se ho compreso bene, la gestione di questi rapporti con, in generale, sia il Pontempo Scavo, che anche i padanesi, se ho capito bene, li teneva a Calabrese Tindano, o no? Sì. Sì. Eh, si sono... hanno chiesto un incontro con Bisognano, e... che poi forse gli hanno detto, pure che la volevano con Cinderano, non lo so... ha fatto un incontro con... che mi ricordo io, c'era Carmelo Papagione, sicuro, gli altri, non mi ricordo io, a Campo Sportivo non ci sono andato, perché l'incontro è stato a Campo Sportivo. Sì, signor Gullo, aspetti, andiamo, andiamo per ordine così evitiamo di ritornarci poi dopo. E allora, siete tutti in carcere a Messina, lei, Bisognano, è una serie di soggetti, ora ci dice chi sono, dei padanesi. Quando accade questo fatto? Nel... a Bisognano non era stato febbraio 2009, e a me in generale 2009, quindi a febbraio... Vabbè. Subito quando è arrivato. Che cosa accade? Bisognano si incontra al Campo Sportivo o con chi? Carmelo Papagione, sicuro. E... altri non mi ricordo chi erano, perché non ci sono andato, però... avevo sentito che avevano chiesto che volevano si incontrare al Campo Sportivo. E così è stato. Poi il Bisognano... Presidente, scusi da Termi. Prego. Rinuncia parzialmente, va bene. Parzialmente, sì. Sicuramente, lo annotiamo a verbale, grazie. Grazie. Posso, Presidente? Prego. Quindi, lei apprende che Bisognano si è incontrato con... Lei ricorda sicuramente... Avevano chiesto loro un incontro, dice, al Campo Sportivo. No, al Campo Sportivo io non ci sono andato. E' andato Bisognano. Lei è tornato tutto curioso, dice che c'è la mentele, che ti dà apporti con il buon tempo. Non lo so che... Che poi, subito dopo, io comunque non è stata la domenica, è stata il lunedì. Sono sceso all'aria, l'ho trovato che parlavo con Fumia, il suo parco. E stavano parlando di Bostanz. Si capisce niente. Va bene, ora ci ritorniamo un attimo, così il suo racconto può essere più chiaro. Che cosa aveva preso Bisognano al Campo Sportivo da qualcuno dei badanesi? Presidente, è suggestiva così l'anno... Lei sa che cosa è successo al Campo Sportivo? Lei aveva già riferito che Bisognano aveva ricevuto delle lamentele. Presidente, aveva riferito che non c'è. L'ha detto dieci secondi. Però non lo interrompiamo, un attimo. Signor Gullo, lei sta riferendo di una circostanza, immagino che l'è stata raccontata, il Bisognano si sarebbe incontrato con qualcuno dei badanesi al Campo Sportivo, su richiesta dei badanesi, giusto? Sì. Lei sa anche che ci sono state le lamentele, questo ci ha riferito, ma con riferimento a che cosa? Lamentele per la vicinanza a questi buon tempi... La vicinanza di chi? Di noi, no. Da Cellonesi, ok. E ce lo dica. E quindi, c'erano anche la mentele che dice... Si sono avvicinati pure a loro, quando c'eri tu non era così... Lamentele, ma non era un conto che è derogato di derogare. Sì. Ha preso qualcosa sul suo conto, su rischi per la sua vita, Bisognano, in questo incontro? Sì, perché a quanto pare i badanesi gli hanno detto che questi dico che volevano fare fuori... Qualcosa... Ma ha riferito a lei, signor Gullo? O a Bisognano? A Bisognano, lo volevano fare fuori a lui. A Bisognano? E chi lo voleva fare fuori? Noi, noi stessi, no? Gli stessi Bacellonesi? Gli stessi Bacellonesi, sì. Ok. Ricorda, nello specifico, con chi Bisognano ebbe questo incontro? Guarda, il Garmano Papa Giovanni era sicuro, gli altri non mi ricordo chi c'era. Va bene, le reggo quello che le ha dichiarato l'11 aprile del 2011. Un'altra occasione in cui si è parlato del progetto di eliminare Bisognano si è verificata quando io l'ho detenuto a Messina in quanto arrestato per l'operazione Pozzo. E' Bisognano detenuto nello stesso carcere a seguito dell'operazione Sistema. Poteva essere circa il febbraio del 2009. Bisognano si era incontrato al campo sportivo all'interno del carcere con i badanesi, ossia quelli che in quel periodo erano lì detenuti, Barba Giovanni, Pippo Scarabocchio, Vincenzo Galati e forse Bastiano il Biondino. Costoro lo avevano informato del progetto di eliminarlo. Subito dopo Bisognano mi chiamò e mi chiese spiegazioni su tale decisione. In quell'occasione mi disse che aveva saputo che c'era un'intercettazione in cui si parlava di tale progetto, ma in realtà tale rivelazione gli era stata fatta dai badanesi che ho prima menzionato. La conferma questa dichiarazione? Confermo, sì. Conferma, va bene. Andiamo avanti. Senta, c'era qualcuno di questi soggetti che lei ha menzionato, dei badanesi, che aveva uno spessore maggiore? Chi comandava? Chi comandava fuori o comandava Vincenzo Galati in carcere che ne so prendeva la parola Wappo, Bastiano Wappo? Bastiano Wappo, quindi, Bastiano Wappo chi è? Bastiano Wappo era in galera conoscoltando 30 anni e veniva a Messina per il processo Maremosco. Non era nel carcere di Messina ma veniva per il processo. Quindi era il capo riconosciuto in carcere, questo intende lei? Sì, eppure Bellucci veniva pure per il processo. Sì, sovrannominato Belluccio, lei si ricorda come si chiamasse questo sovrannominato Belluccio, questo soggetto? Conti Mica mi pare, una cosa del genere. Va bene. Era in carcere per quale ragione questo Conti Mica sovrannominato Belluccio? Aveva una condanna a 30 anni per un omicidio, mi pare, del 92, 93. Sì, ma anche questo Belluccio faceva parte di questo clan per quello che lei ha appreso, di questa famiglia mafiosa dei Batanesi? Sì, sì. Va bene. Quindi in carcere comandava Bontempo Sebastiano Wappo? Fuori, quando era libero, Vincenzo Calati. Sì. Altri soggetti di spessore dei Batanesi chi erano? Prima Mastiano Piondino, poi Pippo Scaramborchio, poi è venuto fuori per me con il suo, perché per un periodo lui è uscito in un secondo periodo, io prima non nemmeno lo conoscevo. Quando lei dice prima e dopo, che cosa intende? Cerchi di essere specifico, cioè si alternavano questi al comando perché erano liberi mentre altri erano detenuti? Cerchi di spiegare meglio. Sì, perché Bastiano Piondino è stato arrestato, mi pare, Pippo Scaramborchio pure, poi è uscito un'omozione, Marba Giovanni, subito dopo. Però non mi ricordo i periodi, non mi ricordo, però è passato tanti anni. Con tutti questi soggetti lei ha avuto i rapporti che ha prima descritto? Sì, con questi sì. Lei ha conosciuto Bontempo Gino? Sì, l'ho conosciuto in carcere, sì. Quando? Nel 2010. E dove eravate? A Messina? A Messina, sì ragazzi. Per cosa era detenuto Bontempo Gino, lo sa? Mi pare per l'associazione. Quando lei dice associazione, intende associazione mafiosa? Credo di sì, non mi ricordo per quale motivo, ma mi pare che tutti per l'associazione erano. Senta, come l'ha conosciuto? L'ha conosciuto sì o no come membro dei Batanesi? Beh, io l'ho conosciuto come uno di loro, perché me l'hanno presentato come un suo amico, quindi però quello che... Io con lui non ho mai fatto niente, quindi non posso dire niente. Chi gliel'ha presentato? Ma mi ricordo comunque qualcuno di loro. Eh, come uno di loro o come amico loro, lei che intende? Amico, quando viene presentato in carcere, il risultato si intende associato. Fino a quando lei ha avuto rapporti con questi soggetti? Fino a quando? Fino al 2005, poi mi pare che in quel periodo che sono uscito, 2007-2008, non mi ricordo se ho incontrato qualcuno. 2008, perché poi nel 2009 sono stato arrestato il mio nuovo. E poi mi ho incontrato in carcere. Lei ha fatto riferimento anche alla circostanza che fece dei lavori su delle autovetture di qualcuno di questi Batanesi con cui aveva avuto rapporti per vicende estorsive. È così? Sì, sì. Si ricorda su quali autovetture? Ho fatto... Su una 166 era di Giuseppe Basina, su una 164 che prima era di Pippo Starbotto, di una Lancia Libra che era di Carmelo Muzzone, su una Golf, qualche altra macchina, ma non mi ricordo. Va bene. Lei ricorda, ha detto, una Libra di Muzzone, di Carmelo Barbagiovanni, corretto? Sì, sì, va bene. Senta, calcò l'Abruzzo Salvatore ha dei fratelli? Sì, c'era uno, si chiama Gino, uno Pietro e uno Sebastiano. Sul conto di Gino lei cosa sa? Ma sul conto di Gino ogni tanto facevano qualcosa, assieme a Cristi, qualche furto di bestiame, ogni volta che lo sono portato con me a fare un furto in un impianto di calcio e struzzo perché questo non voleva pagare, ma poi qualche favore faceva, non era associata all'euro. No, faceva qualche favore. Questo furto presso un impianto di calcio e struzzo, lei lo fece con calcolo Abruzzo Gino, quando? Eh, non me lo ricordo comunque. Più o meno, che epoca siamo? 96, 97. Che cosa rubaste di chi era questo impianto? L'impianto era di Giuseppe D'Amico di Impronte, mi pare, di Randazzo, però l'impianto era apposto, lui pagava 5 milioni l'anno e c'era una ditta che stava lavorando nel fiume. In quale fiume? Nel fiume di Patti. Sì, mentre questo impianto di questo D'Amico, dove era? E' nel fiume di Patti, a confine col fiume di Patti. E stavano facendo un lavoro nel fiume Passaggi di Acoli, Lumi, non mi ricordo, un lavoro grosso che poi non si è fatto. E in questa situazione, dopo l'accordo che avevamo fatto con i Mignac, praticamente c'entravano pure loro, no? Perché i Mignac sono stati allontanati dal Bon Tempo Scavo, dopo che noi abbiamo fatto un agguado a Montalbano nel, non mi ricordo, l'anno 96, 95. Dopodiché i barcellonesi tentavano sempre, dicendo, dobbiamo eliminare, questo danno fastidio. E io avevo capito che loro non ce l'avevano con noi, avevano capito che l'accordo gliel'avevano fatto il Bon Tempo Scavo perché avevano avuto delle discussioni fra di loro. Sì, un attimo solo signor Bullo, restiamo su questa vicenda del furto. Che cosa rubaste presso questo impianto di calcestruzzo di questo D'Amico? Lei è Gino Calcò. Gli rubavano, mi pare che era un grosso gruppo elettroce, un po' persone, una cosa del genere. Ho capito. Che l'abbiamo... Lei ha detto perché non pagava, chi è che non pagava e cosa avrebbe dovuto pagare? La vittima di questo furto. C'era statista che stava facendo questo grosso lavoro nel fiume, mi pare che era passaggio da, se non sbaglio, una condotta, una cosa del genere. E avevo parlato con un D'Amico e gli ho detto, digli di mentre sei a posto, no? E lui mi ha detto, ma questo c'è la testatura, questo così, questo... Allora abbiamo aperto l'impianto che lui gli faceva tenere i mezzi lì dentro. E ci siamo portati questo grosso gruppo elettroce, la macchina agganciata alla jeep di Gino Calcò. Sì, a chi avrebbe dovuto pagare la vittima di questo furto e non intendeva farlo? A noi. Voi chi? Noi barcellonesi. Barcellonesi, ho capito. Ma siccome lei ha fatto riferimento anche ai Mignacca per questa vicenda... Sì, perché avevamo fatto un accordo con i Mignacca, che l'ho fatto io personalmente con Senacusa, e gli abbiamo detto, guarda voi state tranquilli qua, i lavori che ci sono a Montalbano, ce li dividiamo voi con noi, no? Così, perché loro mi hanno detto, noi dobbiamo mangiare pure. Noi siamo la sola, siamo le macchine cose che si ricordo. Vabbè, quindi questo era un furto che era fatto nell'interesse dell'associazione mafiosa che operava in quel contesto, in quel territorio, compreso bene? Presidente, così? Sì, vabbè. Senta... Questo lavoro dove era, mi scusi? Nel fiume di Patti. Nel fiume di Patti. E la ditta come si chiama, se la ricorda? No, non me la ricordo, non era della zona, era una ditta di fuori. E il patto, se fu fatto mai un patto per un'estorsione, chi la curò questa estorsione? La inizia io, poi loro decisero di pagare, però poi vennero a lui Ones, il lavoro si sospese, non si piace più, il gruppo gliel'abbiamo tornato indietro. Ah, gliel'avete pure restituito il compressore, cos'era? Sì, sì, gliel'abbiamo restituito perché l'amico è venuto, mi ha cercato, mi ha detto, io prima gli avevo detto, non sapevo niente, lui mi ha detto, no, porta nel gruppo, dici non ti preoccupare, che sistemiamo, tanto io gli devo portare il cemento, poi si sistema, ma poi questo lavoro fu sospeso per una gara del fiume, mi pare che si portò via dubbi, Sì, quando lei dice d'amico, scusi signor Bullo, quando lei dice d'amico, fa riferimento a quel d'amico proprietario dell'impianto di Calcestruzzo, presso il quale quella ditta che svolgeva a lavori nel fiume di Patti aveva attrezzature tra le quali questo gruppo elettrogeno, capito bene? Sì, usava come deposito l'impianto di Calcestruzzo. Questo d'amico era già messo a posto con voi, mentre non era messo a posto, questo soggetto comunque, l'impresa che teneva queste attrezzature presso l'impianto di Calcestruzzo, così? Esatto. Esatto. Se lei avesse ricavato soldi, ci faccia capire un attimo, da questa estorsione, questi soldi sarebbero andati solo ai barcellonesi o a qualcuno, qualcun altro della zona di Patti, dove si svolgevano questi lavori? No, la zona di Patti era pure nostra, però gli avevamo promesso pure a Mignac, se poi, perché noi non c'eravamo mai il controllo di Patti, io andavo ogni tanto, ma non è che avevamo mai il controllo totale di Patti, perché Patti era una zona abbandonata, e quindi, però, era di verità a noi. Ok. Gli dissi io, mi interessate, mi serve trovare qualcosa, qualche lavoro, quando c'è qualcosa, mi dimuovete pure loro, e poi non vi preoccupatevi, ma c'eravamo pure a Patti, no? Perché eravamo rimasti solo per Montabar e Braille. Poi invece, pure Patti si sono mossi, perché il lavoro, lo sapevano pure Patti, no, che c'era, quindi... Ma la zona di Patti era zona di tutti? No, la zona di Patti era zona dei parcelloni sicuri, però noi non ne chiamavamo tanto... Era una zona un po' più abbandonata, non c'era un controllo specifico, come altri costi, cioè... Era una zona franca, si rubavano le macchine, là si facevano... Diciamo che era una zona un po' abbandonata, però comprendevamo parte noi. Senta, Gino Calcò fu coinvolto in qualche modo in una vicenda che riguardò l'omicidio di un tale soprannominato Il Galletto? Gino Calcò, praticamente, in questo periodo che c'erano questi discordi che i Mignac, prima dell'attentato, sì, prima dell'attentato fu, prima dell'attentato, siccome i Mignac si erano fatti pure un impianto, cominciavano a cercare lavoro a Montalbano, cominciavano a... E Bisognano, che era... I lavori se li voleva fare tutti lui, tutti i corsi, praticamente, gli ordinò a Gino Calcò e Enzo Vallito, di risparmiare tutte le pecore a Pippo Furnari, che era vicino a Emi Giacca, praticamente. Ho capito. Quindi bisognava fare uno sgarbo a Emi Giacca, se ho compreso bene, o comunque mandare un messaggio e quindi Gino Calcò e questo tale Macri furono inviati da Carmelo Bisognano, solo da Carmelo Bisognano, ad uccidere le pecore di questo Pippo Furnari. Sì, da Carmelo Bisognano, però Caccò, 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 Caccò lo sapeva pure. Ho capito. Perché Gino Calcò? Cioè, praticamente, Gino Calcò fu mandato da suo fratello e da Carmelo Bisognano ad uccidere le pecore di questo Pippo Furnari. Ma perché bisognava uccidere queste pecore di Pippo Furnari? Per fargli uno sgarbo a Emi Giacca, no, perché Emi Giacca erano vicino a Pippo Furnari, era suo compare, mi parlo. Ho capito. Dopo, dopo... Questo Macri che lei ha indicato era questo soprannominato Galletto? Il cognome non mi ricordo, Enzo, Enzo si chiamava... Enzo, Enzo, Enzo. Enzo, Magri. Sì, sì. Il cognome ha detto che non so lo ricorda, si ricorda il nome? Enzo. Enzo, sì. Soprannominato Galletto. Pugalletto, sì. Pugalletto. E che ne fu poi di questo Enzo? Allora, questi qua, i Mignacca, ecco, si vendicarono. Pugalletto, i Mignacca lo fecero sparire, no? Noi pensiamo che sono stati loro. Ho capito. Quindi dopo questo furto di pecore, questo Enzo sparì? Sparì, sì, è stato ucciso. Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, perché è sfuggito a me. Chi è che disse che non hanno fatto niente? Ovviamente, giro l'accordo, un periodo, dice, non hanno fatto niente, hanno fatto ammazzare quel ragazzo. Prima ci hanno mandato, dice, è ora, dice, ognuno si fa gli affari suoi. Bisognano, dice, non vuole fare, come se non è successo niente. Poi ci siamo organizzati una volta, due volte, poi io quella sera non ci sono andato, non c'era. E si è fatto un attentato ai fratelli di Mignacca riguardo a sto... Però sono riuscito a scappare. Ok. Quindi Gino Calcò si lamentò sia con lei che col fratello del fatto che questo Enzo, detto che ha letto, era stato ucciso e non erano state prese, come dire, delle... Non erano state fatte delle rappresaglie o comunque non avevano avuto... Non c'erano state conseguenze. Questo è quello che lei sta dicendo. Esatto, sì. E di questo omicidio voi ritenevate responsabili di Mignacca o di questa sparizione, diciamo, questo caso di Lupara Bianca voi ritenevate responsabili di Mignacca? Sì. Sì. E per questo, o anche per questo, poi avete attentato alla vita di Mignacca? Sì, poi abbiamo fatto questo attentato a Mignacca dopo che loro non sono, diciamo, sono riusciti a scappare e c'era un po' di tensione e poi abbiamo detto, guarda che io ci posso parlare se stiamo fermi, perché questi qua se si interrano perché questi erano abituati a stare nelle campagne e tutto tutto, se si interrano ci fanno male a qualcuno di noi prima che vi chiamo, quindi lasciamo stare ci vado io, ci vado a parlare e troviamo un punto di incontro e così è stato poi siamo... Va bene, va bene, questo poi insomma la storia di Mignacca è anche una storia conosciuta andiamo avanti in quali altri reati era coinvolto, se lei lo sa, Gino Calcò? A Gino Calcò faceva... Lei ha fatto riferimento ai falsi braccianti agricoli o no? Sì, effetto, i falsi braccianti agricoli è una delle cose che faceva pure lui poi i contributi degli animali magari li prendevano tutta la famiglia ma non solo lui, a tutti con 100 animali se in famiglia erano 5 prendevano i soldi tutte e 5 come se erano 500 animali ma in realtà erano sempre i 100 ma questo lo facevano tutti non solo i pregiudicati di loro Sì erano truffe queste per quanto ne sa lei? Sì quelle più grosse erano quella lì perché si parlava di 20-30 mila tessere all'anno che poi ogni persona prendeva i 5-6 mila euro quindi l'Ipsi cassava a zero Senta, sa chi si occupava del mantenimento in carcere o se qualcuno si occupava del mantenimento in carcere dei batanesi ha informazioni su questo? No, questo no Siccome lei quando è stato sentito il 14 novembre 2018 dal PM lei ha dichiarato si fa riferimento al fatto che gli associati liberi provvedessero al mantenimento degli associati in carcere e delle famiglie degli associati in carcere Sì quindi è cosa normale cioè che anche i batanesi si comportavano in questo modo Presidente non ha detto questo e dovremmo capire quale parte del verbale sta contestando Allora, del mantenimento in carcere dei batanesi lei che cosa sa? Il batanesi come tutti gli altri Cosa sa dei batanesi? Come da noi? Sa qualcosa? Prescindendo dal cosiddetto meccanismo lei sa qualcosa in particolare? I batanesi no in particolare quelli liberi quanto risolva a quelli che sono in carcere Ma questo a lei è stato riferito o ce lo sta dicendo perché normalmente si faceva così? E normalmente si fa così quindi così è una cosa normale Prego pubblico mistero Sì perché lei qui dice la domanda è che lei sappia che questo tipo di sistema di organizzazione funzionava esisteva anche nell'ambito dell'organizzazione dei batanesi e lei risponde sì cioè anche loro si comportavano in questo modo le chiede il PM e lei dice sì e questa cosa lei come la sa? Lei risponde lo so ci sono stato pure in carcere e comunque poi diciamo che è una cosa con chi? Con qualcuno di questi? E lei risponde sì con quel Giuseppe che ho detto prima con Carmelo Baraggio Giovanni chi c'era più? Un certo Gino questo qua è più anziano ora non mi ricordo come si chiama Gino comunque era pure a carcere di Messina questi venivano sì mantenevano E ma tutti c'erano loro e ti vengono anche a noi no? Fatto va bene ed era in carcere se ho compreso bene che lei apprende tra gli altri da Rosario o Bontemposcavo che dei soldi non hanno arrivati tramite i batanesi e così lei sa se le associazioni mafiose operanti su Tortorici erano interessati ai terreni ma qualcosa ho sentito perché pure prima c'erano delle bonifiche che venivano fatte di parte qualcuno l'ha fatto Ventura che ora mi sto ricordando che l'estorsione gli ero chiuso pure io un piccolo scarabocchio Ventura e Sentià ha fatto una bonifica in quelle zone di San Fratello a prescindere da questa vicenda estorsiva questa dei Ventura e della bonifica in generale ad avere il controllo dei terreni sul controllo dei terreni sa qualcosa sui pascoli diciamo che non ho sentito qualcosa però non so approfondire so che si prendevano questi terreni e facevano delle richieste alla CE ma è stato prima con le mucche poi con i terreni poi con le politiche poi con questi terreni con le particelle dei terreni però non mi so spiegare niente perché non so niente sì come l'ha appresa di queste circostanze? ma ne ho sentito parlare d'arte volte perché dicevo che Montalpano poi i dottoriceni sono in tutti i paesi della Sicilia diciamo che hanno hanno fatto sempre queste prima con le mucche prima con i tesserini dell'Inps poi con le mucche poi con le bonifiche che pure Tancò ha fatto qualche bonifica di qualche terreno per prendere il controllo dello Stato mi ricordo a Santa Villa e dopo è uscita questa cosa nuova che non gli so spiegare come funzionava qual è questa cosa nuova? che intende per cosa nuova? poi i terreni con le mucche che bonificavano facevano delle richieste che affittavano questi terreni a totta al metro e poi legavano 5 volte 10 volte il prezzo che avevano fatto però non gli so spiegare come funziona perché va bene l'ha preso comunque nel contesto criminale di appartenenza questa cosa lei si si senta lei ha preso qualche informazione sul figlio di Contimica quello che le ha indicato come Belluccio Contimica Belluccio non lo conosco ho sentito parlare che faceva uso di droga che vendeva qualcosa però non so niente di lui non lo conosco non lo conosce ma l'ha preso che comunque in qualche modo trafficava droga il Presidente non ha detto questo ha detto che faceva uso ha detto che faceva uso e vendeva ha detto anche che vendeva droga mi pare di sì altrimenti che ha detto signor Bullo si che faceva di droga un po' dicevo che prima era quando ci eravamo noi non si faceva nemmeno a Barcellona e nemmeno in Bananese lo facevano poi ultimamente si sono messi pure con la droga pure loro e pure a Barcellona quando vi dice che si sono messi nel senso che si mettono a spacciare sì sì si sono messi a spacciare però pure loro si ricorda da chi l'ha apprese lei questa circostanza ma quella dei Bananese la sentite in carcere mi ricordo e per quanto riguarda il figlio di Contimiga ha detto Belluccio sì sempre in carcere le leggo quello che lei ha dichiarato il 14 novembre del 2018 il figlio comunque ho sentito dire che stava cominciando a lavorare con la droga il figlio di questo Sebastiano le dice il PM sì non sa però il nome no risponde lei nemmeno lo conosco comunque è che trafficava droga da chi l'ha saputo e quando le chiede il PM l'ho saputo in carcere dice che si sta quando nel 2010 però non so niente e non lo conosco questo ragazzo chi gliela disse sta cosa che trafficava in droga ma no mi ricordo se me lo dissero in buon tempo buon tempo chi lei chiede il PM in buon tempo rosario buon tempo scavo perché lui diceva speriamo che esce questo perché lo rispettava anche se erano di clan avversi dice perché suo figlio si sta rovinando e mi parlava di sto fatto di droga però io non lo conosco sto ragazzo quindi sembra o meglio è che lei ha detto di aver appreso da rosario buon tempo scavo che il figlio di continica detto belluccio stava lavorando con la droga e si stava rovinando la conferma? si anche perché io ero con loro con il buon tempo nel piano quindi parlavo solo con loro quando venne da lei Vincenzo Galati per l'estorsione in danno di questo Michele Pino che ruolo aveva Vincenzo Galati perché lei ebbe rapporti con questo soggetto? è venuto lui perché in quel periodo forse c'era torno lui libera non lo so è venuto lui perché non ho idea perché è venuto lui comunque io già l'avevo lo conoscevo quindi il problema il problema non o lui o un altro sono venuto da me pure soprattutto perché Michele Pino mi pare che aveva fatto qualche denuncia a qualcuno a Mazzaroli se non sbaglio quindi si spaventavano di lui quindi apposta ha chiesto quello il mio intervento le leggo quello che le ha dichiarato sempre in questo verbale lei ha fatto già riferimento a questa estorsione in danno di Michele Pino e Tindaro Marino sul lavoro a Torrenova pagina 24 poi a pagina 25 un altro soggetto che si chiama Galati Giordano Vincenzo e lei risponde mi pare che è lui questo che stavo dicendo io Vincenzo Galati Giordano ma lei perché le chiede appartenente all'APG come fa lei ad individuarlo come referente se ci può specificare referente di cosa di quale gruppo lei risponde il referente dei badanesi era lui cioè nel 2008 quando avete concluso questa estorsione lui era il referente dei badanesi e lei risponde sì 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 ma lui era il capo lui era il capo ma e le fu presentato come capo da chi non mi fu presentato non mi ricordo in quale occasione me l'hanno detto ma chi c'è allora chi è il responsabile e mi hanno detto che era lui ma qualcuno vi buscherà voi non lo so un barba Giovanni non ho idea che me l'hanno detto non mi ricordo andiamo un attimo a bottempo Sebastiano Biondino lei ha detto che ha partecipato a questa estorsione in danno dell'impresa avventura per la bonifica di un terreno dove doveva essere fatta questa bonifica la bonifica non lo so se è la zona di San Fratello non ho idea non mi ricordo dove era perché io non sono andato sul posto sono venuti loro da me e perché lei si relazionò con bottempo Sebastiano Biondino con Sebastiano Biondino chiedo scusa come lei l'ha indicato per questa vicenda perché in ventura erano chiamavano i clienti miei gli amici miei i paesani miei che già pagavano l'esporsione a me e loro per arrivare a lui dovevano venire per forza da me ma perché dovevano arrivare a Biondino a Biondino? si no al contrario Biondino prima era responsabile lui poi l'hanno arrestato e uno di responsabile dei badanesi intende lei si si dei badanesi poi è venuto pure scarabocco mi pare non è venuto solo lui perché poi lo scarabocco gli ha fatto pure dei danni perché non gli ha dato i soldi subito che potevano i soldi e poi ventura ma dentro non gli do più nemmeno una lira e poi non mi ricordo come è finita non mi ricordo una altra domanda grazie presidente che c'è un'altra domanda che c'è un'altra domanda